Salve a tutti amici poriani bentornati in questo nuovissimo video, sempre su escape on dark ovviamente sto cercando magari di fare qualcos'altro, mi è stato consigliato di fare stalker visto che ci sta però non so se sono comunque video che andrebbero essendo che ormai sono molto conosciuto per escape comunque oggi vi faccio vedere tutte le uscite, tutte le uscite che ci sono in tutte le mappe sia con chiavi che senza chiavi allora il punto quello che vi ho segnato in piccolino è stato dove siamo spawnati noi e tutta questa zona grossa è dove si spawna praticamente non fate caso al gioco dove sto andando e la mappa dove sto segnando perché è sfalzato vi faccio solo vedere a sinistra il giro che ho fatto e poi comunque lo vedete anche come è fatto allora noi siamo arrivati qua dove a destra c'è la casa in costruzione e siamo su una strada noi continuiamo dritto 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 fino ad arrivare a un ponte che ora l'abbiamo sorpassato e lì a sinistra c'è la gas station ok allora cosa possiamo fare o andare a sinistra dalla gas station e passare dall'altra parte tramite un boschetto o saltare in questo punto dove sto saltando io adesso e ora mi dovrei girare per farvi vedere un po' no? passare da quella parte e poi fare un salto qui ok e probabilmente se si va dall'altra parte si sbuca lì dove c'è quella collinetta ecco in quel punto là probabilmente si sbuca ora si va tutto 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 dritto 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 e state attenti in questa zona perché ci potrebbero essere un sacco di scav bot ma tanti davvero tanti se non c'è passato nessuno allora qua si trova un buchino ok però in fondo in fondo in fondo che questo è il checkpoint in fondo al checkpoint c'è un altro buco più grande e ora qui non riesco a passare perché è vagatissimo e non riesco nemmeno a saltare comunque saltiamo di qua e faccio questo giretto taglio e come avete visto magari nella mappa che ho disegnato vi ho fatto anche vedere il giro comunque si può girare anche da sinistra non per forza da qui insomma ci si può arrivare da tutti i punti superiamo questo casone qui a sinistra e ritroviamo praticamente questa entrata è un'entrata di un bunker quindi si può aprire senza chiave ovviamente ovviamente tutte le uscite su custom sono senza chiavi e questa insomma è la prima è magari la la classica cioè la gente magari per prendere un po' più di loot va proprio al checkpoint ammazza gli scav e quindi scappa più velocemente di qua però se usciamo andiamo a destra e proseguiamo per la ferrovia a un certo punto arriveremo a un punto in cui bisogna saltare ancora qua non ho manco fatto il taglio perché non ho fatto il taglio però se guardate qui in questo punto ci sono delle cisterne ok se voi state da quella parte magari arrivate da un'altra parte della cosa della fabbrica basta vedere quelle cisterne e venite sulle ferrovie saltate andate subito a destra e trovate questa uscita e state attenti anche ai cespugli perché dentro i cespugli ci sono i fili spinati eccola là c'è l'uscita in basso a destra c'era anche un cadavere messo lì dagli sviluppatori dove ci potete trovare qualcosina anche da bere poi insomma uscite da quella parte e continuate per la la cosa la ferrovia e a un certo punto arriverete qua dove ci sono treni cose eccetera eccetera e poi vi buttate ok buttate di qua mi faccio anche male e questa è un'altra uscita prendete questa è l'uscita la la gas station è l'uscita la pompa di benzina dove qui dentro si possono trovare cose un po' rare si possono trovare il case pistol dove dentro ci potete mettere le pistole però anche caricatori cose anche un bellissimo poster di tar boy non è playboy ma lo chiameremo di tar boy ormai tutti i brand sono messi con tar tipo la coca cola la tar cola vabbè comunque qui aprite vi mettete qua e iniziate ad estrarre e niente queste sono tutte e tre le uscite adesso vi faccio vedere l'uscita con la chiave tra virgolette la shortcut ritorniamo sul ponte dove c'è la gas station e invece di andare a dritto girate a destra dove c'è questa cosa questa è una scorciatoia se avete la chiave la factory key potete aprirla quindi l'aprite e niente probabilmente invece magari siete messi male già all'inizio siete messi male dall'inizio e invece di correre in fondo fino al checkpoint dove c'è dove ci potete trovare gli gli scav che magari li potrebbero ammazzare andate direttamente qua nella short che ci trovate insomma lì i cassettini da aprire qualcosina anche sul divano la cassa militare eccetera quindi aprite e vi ritrovate qua in questo punto nello stesso punto di prima e qui andando a dritto ovviamente si sbuca dove c'erano i treni e poi ci siamo lanciati si può passare sia sotto che sopra a noi si passa sopra e adesso vi vedrete proprio le cose rare che ci sono che mi è capitato solo adesso offline di trovare ciò là dove sto puntando è dove c'era l'uscita di mezzo tra le due quella sarebbe l'uscita di mezzo poi c'è la classica chiamiamola la classica la pumping station qui si la pumping station la gas station insomma l'aprite e niente io dentro ci ho trovato un val dentro il piatto mai trovato un val qui a caso però se spawnen offline vuol dire che potrebbe spawnare anche online quindi ora ci andiamo su su woods woods non ha bisogno di chiavi forse una però ora vedete vi faccio vedere un po' una cosa con quella chiave allora il punto lì tutto rosso è dove siamo spawnati lì dove ci sono i puntini rossi sono i diversi punti di spawn diciamo quelli vicino a quella parte ma l'idea lo spawn è tutto in quella zona noi stiamo andando avanti e una volta che siamo arrivati alla fabbrica che abbiamo a sinistra continuiamo dritto ricordate di tenervi sempre la montagna o il muro a destra e l'ago a sinistra questo significa che comunque state andando verso l'uscita però voi spawnate da una parte e l'uscita è dall'altra nel senso non è che sono un po' sparse ce n'è una ora voi tenete conto che state con il muro a destra per forza a destra il muro e c'è questa roccia una volta incontratata questa roccia c'è il bunker questa sarebbe un'uscita un'uscita un po' prima di quella classica serve una chiave la chiave si chiama se non mi sbaglio ZB01 che purtroppo qua non non l'ho fatto vedere però è una chiave lunga e basta senza le cose con i dentini eccetera qua ci potete trovare un po' di loot questa cassa dove c'è ecco la ZB ora non leggo mi ricordo Z1 Z qualcosa purtroppo è baggata ok purtroppo è baggata infatti nessuno la usa nessuno e quindi ci dobbiamo subire l'uscita normale dove c'è questa casetta questa è la casetta degli scav perché ci sono diversi scav sia nella casetta sia a sinistra c'è una stradina dove anche lì ci possono essere gli scav e niente qua con il muro a destra o con il lago appiccicato a sinistra andiamo a dritto a dritto a dritto a dritto a dritto a dritto e alla fine troveremo che ci da estrazione è un punto grosso d'estrazione praticamente tutta questa zona dietro quindi niente vi mettete qua exit located e dovete stare attenti perché ci possono essere magari diversi camper dietro agli alberi prima dell'estrazione come in tutte le mappe ora si va su factory su factory non vi ho messo la mappa perché alla fine factory è piccola si riconosce molto velocemente noi siamo spannati in red light quel punto si chiama red light dove andiamo ora è offline perché prima nell'afa si spawnava esclusivamente qua che questa è l'uscita di offline in poche parole si chiamerebbe così ci vuole sempre la factory key si apre e ci ritroviamo un po' di copertura qui quindi magari siete messi male chiudete quella porta vi sdraiate dietro sti cosi e via ora noi ci ritroviamo nella zona di sinistra più o meno di destra non lo so però qua è bunker o console spesso si chiama bunker in questo punto qua centrale si chiamerebbe lobby ok e ci sono questi tuboni però io ho detto vabbè dai volevo magari saltare senza farmi danno però si poteva passare da sinistra proprio dall'altra parte per fare prima dai non per fare prima per non farci danno questa è l'uscita quella senza chiave l'unica su factory senza chiave dove qua state attenti perché molta gente ci può camperare dietro questo portone qui a destra o dietro il container quello lì ora tenendoci alle spalle l'uscita classica andiamo tutto a dritto a dritto a dritto qui a sinistra abbiamo le cisterne questa a destra è la pumping station quella casettina piccola ovviamente qui c'è un altro portone rosso enorme però noi andiamo a sinistra dove qui a sinistra dove ci sono le finestre c'è il corridoio però comunque noi apriamo andiamo sotto da queste scale e troviamo questa porticina e questa è la terza uscita di factory quindi insomma l'apriamo sempre con la factory che alla fine le chiavi quelle delle uscite sono factory e e zb però avete visto che su woods è buggata quell'uscita quindi non si usa insomma ora vi faccio vedere shoreline shoreline un po' più difficile da capire allora dove vi faccio vedere ora è dove siamo spawnati siamo spawnati in città e quello è tutto il giro che vi sto che vedrete nel video quindi sono arrivato ad avere il mare a destra il coso che ho cerchiato è la la cosa la gas station in fiamme poi quella parte là in fondo è l'uscita quindi una volta che voi avete il mare a destra voi continuate a dritto a dritto a dritto a dritto a dritto ma a dritto a dritto fino a che non arriverete alla gas station in fiamme ok quindi una volta arrivate al gas station in fiamme andate comunque a dritto arrivate poi nel molo e andate in una specie di ascensore e nella mappa se vedete quella c'è una seconda uscita ok c'è una seconda uscita che è l'uscita del bunker e ce l'ho anche la faccina felice e diciamo ora le mappe sono finite quindi vedete un po' ok questa è la prima uscita che è la al molo e qui state attenti perché è una zona molto di fuoco ci possono essere player perché molti player vengono qua campano dentro questo alberghino a sinistra e camperano ovunque praticamente i player all'uscita e quindi c'è da stare molto molto attenti e quindi niente voi continuate ad andare a dritto a dritto a dritto a dritto e poi sbucate la e quella cosa la è l'uscita che potete estrarre sia se gli state accanto e dietro ma spesso ci si mette dentro anche cioè io io mi metto sempre dentro perché sinceramente faccio prima entro e magari qualcuno mi spara ma io entro se invece vado di lato c'è probabilità che mi ammazzino quindi niente entriamo qui dentro o come vedete anche di lato mi continuo a estrarre qui diciamo per 0,5 secondi non sono estratto comunque torniamo indietro e tornando indietro prendiamo questa stradina che ritroverete a destra quando uscite dal molo e continuate ad andare a dritto con il muro a destra e arrivate in questa zona qui che c'è questa sarebbe la nuova zona quella che c'è a destra che per ora non ci si può andare però sarebbe una zona nuova degli appartamenti voi tenetevi sempre 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 il muro a destra ok sempre il muro a destra e risalite la montagna se magari volete essere un po' più sicuri di avere gli appartamenti qua a destra quindi continuate sbuccherete in questo punto dove a destra ci sono delle grate c'è il fiumi sciattolo e qui c'è un roccione grande voi superate questo roccione e arriverete al bunker qui c'è anche un carro armato dentro il bunker c'è un po' di loot anche qui è zona di fuoco perché ci sono gli scav ora vedete lì a sinistra se voi spanate nella palude vi tenete il muro a sinistra e poi sbucate qua quindi se spanate nella palude ve ne accorgete subito vedete a palude case tutte distrutte eccetera mettete a sinistra e poi sbucate qua e l'uscita è praticamente qui nel cespuglio quindi vi infilate nel cespuglio e iniziate ad estrarre quindi niente ragazzi spero questo video è stato d'aiuto tutte le mappe le uscite in tutte le mappe e niente spero vi sia piaciuta e noi ci si vede in un prossimo video e nulla ciao ciao